E ciao a tutti ragazzi qui è Willitech e ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video Per questo video unboxing perdonate la mia voce ma purtroppo signori Nonostante siamo ormai a maggio inoltrato, anzi giugno un altro po' Il mio corpo decida ancora di essere raffreddato e robe simili Piccoli incidenti di percorso che a noi non fanno paura e non ci fermeranno Perché oggi abbiamo qui davanti a noi con tanta bellezza Ossia Logitech G Cloud Che cos'è Logitech G Cloud? Logitech G Cloud è una console creata da Logitech per il Cloud Gaming Cloud Gaming è Remote Play ma non solo perché questa piccola console qui promette davvero bene Andiamo ad analizzare un attimino la scatola come vedete nella parte frontale troviamo proprio la console con il nome Invece sul retro troviamo un'altra piccola rappresentazione della console, delle specifiche tecniche e niente più Mentre andiamo ad aprirla io come sempre vi invito a lasciare un bel like per supportare al meglio il canale Commentate, condividete ed iscrivetevi per non perdervi tutti i futuri contenuti Soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di questa piccola console Ed inoltre se volete acquistarla trovate il link Amazon affiliato qui sotto nella descrizione Con la quale grazie al vostro acquisto ci ricavo qualcosina Andiamo ad aprire il vaso di Pandora e voilà signori eccola qui la console Devo dire davvero ma davvero grande, molto ma molto grande È bianca come potete ben vedere Si impugna bene, molto ma molto bene Sembra davvero niente male Andiamo a posarla da parte per il momento Guardiamo cos'altro abbiamo all'interno della scatola E qui troviamo un'altra scatolina con credo vari accessori Esatto tipo cavo USB USB-C per la ricarica Che odorino strano Non è uscito un buon odore ve l'assicuro E forse aprendo dall'altro lato troviamo l'alimentatore Esatto Alimentatore da 15 Watt Quindi deduco che la console riesca a ricaricarsi a 15 Watt Detto ciò mettiamo tutto da parte e concentriamoci sulla console in sé Allora questa è la console Devo dire che a livello estetico non mi dispiace affatto Tra l'altro già di default troviamo una pellicolina applicata su Volendo andate a tagliare via questa linguettina Avete già la pellicola messa La batteria è di 6000Ah quindi abbastanza grande Dovrebbe consentirci di giocare per un bel po' di ore senza problemi Vi farò sapere ovviamente più avanti nel video La durata effettiva della console Troviamo gli stick analogici e asimmetrici Un po' come i controller di Xbox I vari tasti anche questi ricordano molto quelli di Xbox Feeling del tocco Non è male Il display è 16.9 Dovrebbe essere da 7 pollici se non erro 1080 e va bene così perché tanto col cloud gaming O il remote play non riusciamo ad arrivare oltre per il momento Quindi sarebbe stata una spesa inutile andare ad applicare un display 4K qua E il refresh rate del display è a 60 Hz Quindi perfetto Sopra troviamo i tastini del volume Credo esatto lo switch per il power Interessante che non sia un tasto ma proprio uno switch Qui credo un lettore per le SD Esatto Possiamo andare ad inserire una micro SD Poiché comunque lei gira con il sistema operativo Android Quindi possiamo andare ad installare banalmente tutte le app che troviamo sul Play Store Tasti dorsali con anche una buona corsa di Ray Bella l'impugnatura con una specie di grip Ovviamente è tutta plastica non abbiamo parte in gomma Aver gradito forse una parte in gomma E sotto ingresso jack USB-C per la ricarica e i due speaker stereo Detto ciò signori andiamo ad accenderla e vediamo un attimino come si comporta Infatti come vedete powered by Android Vediamo quanto ci mette ad accendersi Ok Ok l'audio ce l'abbiamo Tra l'altro fa strano vedere proprio l'Android Cioè si vede che c'è il sistema operativo Android Guardate che roba Allora andiamo a mettere ovviamente italiano Dobbiamo fare la configurazione Rete Wi-Fi Ovviamente è importantissima Se ne avete la possibilità usate una rete 5G Dato che andiamo ad utilizzare il cloud e il remote play Ha anche la vibrazione comunque interessante Preparazione del tablet in corso Perché effettivamente c'è Lo rileva come un tablet il sistema operativo Ta-da E che succede qua? Che non va la rete scusami? Ah mo va Ok dopo aver smanettato un po' con la configurazione Troviamo finalmente una roba interessante e personalizzata Ossia abbiamo la modalità tablet Quindi possiamo utilizzare effettivamente questo qui come un tablet E andare ad avviare poi l'applicazione Che ci permette di vedere il tutto in modalità console Oppure possiamo scegliere di vederlo direttamente Proprio in modalità console Ovviamente noi sceglieremo modalità console In tutto ciò ovviamente il display è touch Ok? Eccoci qua Benvenuto in Logitech G Cloud Qua ci dice che possiamo giocare in streaming Possiamo giocare con il cloud gaming Tutto bene Insomma breve tutorial sui tasti Che tra l'altro sono tutti personalizzabili e mappabili Sante home ti puoi riportare al desktop in qualsiasi momento Ok Se vogliamo fare screenshot dobbiamo tenere questi due contemporaneamente Ok Eccoci qua Questo è il sistema operativo Come vedete abbiamo varie applicazioni già installate di base Tipo appunto il Play Store Come vi dicevo prima per avere accesso a tutte le app che troviamo sul Play Store Xbox Cloud Gaming Abbiamo poi l'NVIDIA GeForce Now Xbox credo però per lo streaming questo Team Link Quindi streaming da PC Google Chrome YouTube YouTube Music addirittura E tutte le app Come vedete abbiamo davvero un botto di roba Abbiamo anche banalmente la calcolatrice Voglio sapere la radice quadrata di 88 Eccola qui E con questa ritorno a casa Giusto? Ok Ah me le mette in ordine di utilizzo Vabbè avrò l'applicazione qua della calcolatrice Google invece Uh tutte le app di Google Maps Mentre nella parte superiore troviamo la modalità riposo Le impostazioni che credo siano quelle ok Di un normale dispositivo Android Difatti Wi-Fi Bluetooth Possiamo anche collegare delle cuffiette Bluetooth Modalità aereo Il display che tra l'altro la luminosità è al minimo Vediamolo un po' al massimo Ok Devo dire Abbastanza luminoso Tra l'altro l'angolo di visione direi che è buono Come vedete abbiamo anche la modalità controller Sensibilità delle levette Quindi possiamo addirittura scegliere la zona morta delle levette Che è una figata Oppure appunto possiamo andare a rimappare ogni singolo tasto Credo che la memoria che abbiamo a disposizione di base sia di 64GB Poiché occupati ne abbiamo al momento 42GB e 12 Utilizzando il 34% Quindi proviamo un attimino il Cloud Gaming di Xbox Ragazzi Ho fatto giusto ora l'abbonamento proprio per provarlo Tra l'altro nel frattempo ho preso la Nintendo Switch OLED Per metterla un attimino a confronto A livello di dimensioni Anche come vedete è identica ragazzi Davvero è grande quanto una Switch OLED Quindi se avete già una Switch OLED a casa O anche una Switch Perché tanto le dimensioni sono uguali Potete capire un attimino le dimensioni dell'impugnatura Anche se devo dire che questa qui si impugna molto meglio Grazie a queste due curvature qua Che rendono l'impugnatura molto più naturale La differenza della Switch che è piatta Secondo me ovviamente il display di Switch è molto meglio Poiché abbiamo un display OLED a 60Hz sulla Switch Quindi direi che sotto questo punto di vista Switch vince Signori che giochi possiamo provare? Forza Horizon 5 direi che è buono da provare Gioca ok Come vedete non devo né scaricare nulla né niente Sono collegato Il gioco si avvia È la prima volta tra l'altro per me che provo il Cloud Gaming di Xbox Quindi è un'esperienza nuova Ho paura possa laggare Io ho una 5G normalissima raga Mi sembra un po' scarsina la risoluzione al momento Vi dirò la verità Non nella risoluzione del display ma la risoluzione dello streaming Credo sia un po' colpa della mia connessione Però raga effettivamente così facendo voi potete giocare Ad un gioco come Forza Horizon 5 ovunque Ovviamente dovrete essere collegati ad una rete Wi-Fi Che roba che spettacolo signori La risoluzione del display ovviamente è perfetta raga 1080 Poi ha anche un buon DPI 60 Hz meglio di così raga E adesso giochiamo Beh devo dire raga Va la sua porca figura Purtroppo ripeto La risoluzione un po' cala la vedo Non siamo mai nella vita in 1080 Ma questa è colpa della connessione mia E non della console del Cloud di Xbox ecco L'audio raga se lo spara al massimo Sorpassato Levati Wow Mamma mia Vi dirò l'audio sembra peccare sui bassi Se devo essere sincero Sullo sterrato con una Corvette Se posso essere sincero non è proprio il massimo Però Ipotizziamo Ora io voglio uscire Devo fare così Giusto? Perfetto Voglio farvi vedere rapidamente La connessione che ho Così almeno ve ne rendete conto voi stessi Che comunque anche con una connessione non al top Si può giocare in Cloud Con qualche piccolo compromesso però si Come vedete Tocco quasi i 110 mega Il che non è male Però non è il massimo Comunque signori Bella per ora La provo per un paio di giorni E vi faccio sapere meglio cosa ne penso Ed eccoci qua con le considerazioni finali In merito alla G Cloud di Logitech Signori Che dire Veramente Un'ottima consolina Che non si vede nulla ovviamente Con il riflesso e tutto risulta essere bruciata Però Signori Veramente una grande console Leggera Autonomia Veramente ma veramente top Il sistema reagisce bene È fluido Non si blocca assolutamente Poi il fatto che giri su Android E vi permette praticamente di utilizzarla Come un normalissimo tablet È il top Insomma è veramente una bella console Mi è piaciuta davvero tanto Però siamo qui per parlarne meglio appunto Giusto? Allora partiamo dai pregi Come sempre I pregi quali sono? Beh innanzitutto direi l'ergonomia Perché lei si impugna davvero Ma davvero bene E credetemi potete utilizzarla per ore Senza fastidi Cioè è veramente comoda da impugnare A differenza tipo di una Nintendo Switch Che vi ho portato in paragone Durante l'unboxing Quella se ci giocate per un paio d'ore Tenendola in mano La sentite come Questa qui invece no Complice anche il fatto che sia leggerissima Lei pesa solamente 440 grammi E distribuiti su quest'ampio spazio Non si sentono affatto Pesa solo un po' sul fondo Perché sicuramente qui avrà la batteria Che vanno un pochettino a pesare Lei ha una batteria da 6000 ampere Che potrebbe sembrare piccolina In realtà è abbastanza grande Ve lo posso assicurare Io utilizzandola con il cloud di Xbox Oppure con Steam Link Ci ho accumulato un bel po' di ore di utilizzo All'incirca 11 ore Con la carica di base tra l'altro Che non è al 100% Ma bensì all'80% Perché quando l'ho tirata fuori dalla confezione Aveva l'80% di batteria E dall'80% al 10% Utilizzandola in cloud gaming O al massimo remote play Quindi nulla che girasse sul tablet in sé Appunto ho raggiunto questa autonomia Di circa 11 ore Deduco che portandola al 100% E scaricandola fino allo zero Cosa non consigliata da fare Però deduco che Se fate una roba del genere Si arriva tranquillamente Alle 16 ore di autonomia Poi comunque potete utilizzarla Tranquillamente Anche mentre è in carica Quindi se volete giocare Per ore infinite Potete farlo Bello il display Nonostante sia un display 1080 Rende davvero bene Poiché appunto lui Ha veramente un'alta densità di pixel Peccato per il fatto che sia un IPS Che attenzione Non è che faccia schifo Però avrei preferito più un OLED Considerando il fatto che questa console Viene venduta ad un prezzo abbastanza altino Alla quale arriveremo dopo Io un display OLED L'avrei preteso d'obbligo Altro pro La fluidità del sistema Ha 4 giga di RAM Che per ciò che deve fare Vanno benissimo Difatti il sistema gira fluidamente E' ottimizzato bene Potete tranquillamente aprire un'app Tipo Amoncas E' installato direttamente sulla console Scaricato tramite il Play Store Perché potete scaricare Tutto quello che volete dal Play Store Cosa figa che il display Essendo touch Noi possiamo andarlo ad utilizzare Senza problemi così E poi possiamo muoverci in game Con gli analogi E il sistema è veramente molto fluido Cioè vedete io clicco L'applicazione va in stand by E poi ci basterà ricliccarci su Per aprirla Ma è veramente molto rapida Cioè Unico peccato Che se io vado ad aprire Tipo un'altra app Come YouTube Mi fa chiudere Per forza L'altra applicazione Quindi non posso tenere Più di un'applicazione In esecuzione Poi altra cosa top Che ho notato Lei ovviamente dispone Di una scheda Wi-Fi Pensata appositamente Per gestire Situazioni di cloud gaming E remote play Ciò ovviamente va a ridurre L'input lag del gioco Eccetera eccetera Difatti io con una 100 mega Come avete visto Riesco a giocare Senza problemi Con il cloud gaming D'Xbox Perdo un po' Di qualità video Per il semplice motivo Che lì più connessione hai Meglio è Però comunque riesco a giocare Senza problemi Davvero Cioè perdo solo un po' Di risoluzione Ma anche con una 100 mega Riesco a giocare Senza problemi Lo Steam Link Lo Steam Link invece È perfetto Poiché l'input lag È pari a 0 Veramente riuscite a giocare Senza problemi E non perdete mai risoluzione Cioè sì ok È una situazione locale Comunque giocate in locale Quindi situazione Completamente diversa Però per farvi un esempio Se io vado ad utilizzare Steam Link Sul mio iPhone Nonostante io abbia Un iPhone 14 Pro Quindi un top Comunque non avrò Queste prestazioni In remote play Poiché Il telefono Non ha una scheda Pensata Per gestire queste situazioni E quindi avrò decisamente Più input lag Insomma Veramente una bella console Ma mi è piaciuto tutto No Adesso passiamo Ai punti dolenti Punti dolenti Allora Il primo punto Che non mi ha convinto È l'audio Che sì È un buon audio Si sente forte Ma ha una qualità Abbastanza bassa Cioè In situazioni magari Di gioco Dove Ci sono Parecchi suoni Contemporaneamente Vi faccio un esempio Di Forza Horizon Che magari abbiamo La musica Suoni ambientali Il rombo Dell'auto Quindi un casino Di suoni Tutti insieme Gli speaker Tentano Ad impasticciare Tutto Quindi l'audio Non è propriamente Pulito E che non è propriamente Il massimo Vi ricordo che stiamo Pur sempre parlando Di una console Che viene venduta A 360 euro Il display Ve l'ho già detto prima Avrei gradito Un OLED Al prezzo Che ha Un OLED Io lo volevo tutto Perché ci lamentiamo Tanto di Nintendo Che ci caga fuori Una Switch OLED Al prezzo Di 360 euro Però almeno quella Ha un hardware Puoi farci girare Dei giochi In esclusiva E in più Nella confezione Trovi pure Degli accessori Tra cui la dock station Per giocare E nella tv Insomma Un po' di roba Questa qui si Ha dell'hardware Ma è l'hardware Di un normalissimo tablet Magari medio gamma Ma a mio avviso Ci sarebbe stato Tranquillamente Un budget Per mettere Su un display OLED Altro punto Negativo Che ho trovato Questo più Credo sia colpa Dell'ottimizzazione Dell'app Remote Play Di Playstation Parliamo Perché tipo Con Steam Link Non ho problemi Con il Remote Play Di Xbox Idem Non ho problemi Ma se andiamo Sull'APS Remote Play Ho problemi Che genere di problemi Vi state chiedendo Beh semplicemente L'app non riconosce Il paddone Motivo Boh chi lo sa È una cosa assurda Cioè nel senso Io compro una console Per giocare In Remote Play E poi L'APS Remote Play Non è compatibile Cioè sa via Ma posso utilizzarla Solamente con I comandi touch E cosa ancora più Shock Dici vabbè L'app non supporta Il tipo di paddone Perché magari Deve essere aggiornata Per carità di dio Ci posso anche stare Ma sapete qual è il fatto La cosa più grave Che ho provato pure A collegare Un DualSense Dell'APS 5 Tramite il Bluetooth Ed indovinato un po' Si collega Ma non è compatibile Quindi io l'APS Remote Play Posso utilizzarla Solo ed esclusivamente Tramite comandi touch Ed è Una follia Cioè per quale motivo Accade ciò Un po' colpa dell'app Un po' colpa Di Logitech Non so dirvi Sinceramente Però è una cosa Che mi ha dato fastidio Dulcis in punto Per concludere I tempi di ricarica Sì ok Abbiamo Una grossa batteria Però signori Ci ho messo 4 ore circa Per caricarla Dallo 0 al 100% Utilizzando L'alimentatore Che viene dato In confezione Si poteva fare Sicuramente Di più Però va bene Passabile Ci posso stare E adesso parliamo Del prezzo Appunto Lei viene venduta A 360 euro Signori 360 euro Per una console Che è in grado Sostanzialmente Di far funzionare Solamente giochi In cloud gaming O al massimo Remote play Con la possibilità Di scaricare Qualche giochino Che troviamo anche Su play store Signori È un po' Troppo Secondo me Logitech Ha un po' Esagerato col prezzo Il prezzo Ideale Per questa console A mio avviso Sarebbe dovuto Essere Quello Di 250 euro Quindi Un 100 euro In meno Perché si ripeto È una bella console Funzionale Ottimizzata E tutto Ma Effettivamente Vi porto A riflettere Un attimino Comprate Un buon tablet A circa 200 euro Poi Uno di quei pad Che va ad inglobare Il tablet Un po' Come possa essere Tipo il backbone Per gli iphone E signori Con 240 euro Circa Avete Praticamente La stessa roba Sì ok Qui avete La scheda Dedicata Che se avete La connessione Scrausa Come la mia Potrebbe aiutarvi Per giocare Senza problemi Ma Se avete Tipo la 1000 mega Riuscite a giocare Senza problemi Anche con un tablet Cioè L'input lag Sarà praticamente Assente Quindi sì Bella console Ma secondo me Troppo penalizzata Dal prezzo È un prezzo Davvero esagerato Spero ci siano Dei tagli di prezzo Più avanti Per far sì Che diventi Più accessibile A tutti Perché Nokia A questo prezzo Non sia accessibile Però Signori Secondo me Tutti questi soldi Non giustificano L'acquisto Di questa console Ripeto Mi duele dirlo Ma è così Detto ciò signori Io spero che questo video Vi sia piaciuto Fatemi sapere Un po' voi Qui sotto nei commenti I pareri In merito a questa G cloud Io come sempre Vi invito a lasciare un bel like Per supportare al meglio il canale Commentate Condividete Iscrivetevi Per non perdervi I futuri contenuti Se avete voglia Seguitemi su Instagram E TikTok E noi ci rivediamo Con un prossimo video Ciao 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 ciao